Signor Perfetto, un protocollo d'intesa firmato qui proprio in Prefettura per difendere quelli che sono a servizio negli ospedali, nelle strutture sanitarie che a volte vengono aggrediti. Uno strumento operativo al servizio di chi si prende cura di tutti quanti noi, quindi dei medici, degli infermieri, di tutti gli operatori sanitari per potenziare quelli che sono gli strumenti esistenti e per fare rete, per mettere in campo tutti quegli strumenti, quali ad esempio la videosorveglianza, quali la presenza di una vigilanza privata all'interno delle strutture ospedaliere, quale una vigilanza invece radiocollegata delle nostre forze dell'ordine sul territorio con passaggi frequenti, una serie di misure per scongiurare che questi episodi possano verificarsi. Non ci aspettiamo certo che le persone che vengono al pronto soccorso aggrediscano il personale sanitario, noi abbiamo un'altra cultura, la cultura dell'accoglienza, non la cultura del controllo e della vigilanza. Gli obiettivi che abbiamo è mai nessuno solo e chi è aggredito deve essere accompagnato nel percorso. Dal 2019 abbiamo lanciato Rispetta chi ti aiuta proprio qui ad Arezzo e qui ad Arezzo si firma una delle piccole pillole che potranno poi essere messe in atto per la sicurezza degli operatori. Nel momento in cui si utilizza la violenza si è in un luogo dove si lavora e dove si cura le persone, si è tutti insicuri, quindi rinnovo lo slogan Rispetta chi ti aiuta. È una battaglia fatta tutti insieme che non sottolinea che ad Arezzo c'è un'emergenza ma ad Arezzo c'è una massima sensibilità e ringrazio il signor prefetto per essere come sempre un punto di riferimento per portare a sintesi le istituzioni.